Vigilia di Pasqua, Pasqua e Pasquetta, tutto l'Abruzzo in zona rossa come il resto d'Italia. Una misura disposta dal Governo per frenare la diffusione del Covid-19. Da martedì 6 aprile cambierà la mappa delle maggiori restrizioni sul territorio abruzzese. L'unità di crisi ha ridefinito l'elenco dei comuni in zona rossa che passano da 24 a 17 e vi resteranno fino all'11 aprile. In provincia dell'Aquila il provvedimento riguarda Celano, Prato La Peligna, Pescina, Cerchio e Corfinio. In quella di Pescara, Colle Corvino, Rocca Morice, San Valentino in Abruzzo Citeriore. In provincia di Chieti, Lentella e in quella di Teramo, Nereto, Colonnella, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Alba Adriatica, Martinsicuro, Canzano e Pietralta, frazione di Valle Castellana. L'assessore regionale della Sanità, Nicoletta Veri, esorta tutti a rispettare le regole e a non abbassare la guardia, soprattutto durante i giorni di Pasqua e Pasquetta, per non vanificare i risultati ottenuti fino ad ora. Nella nostra regione, che abbiamo uno degli indici più bassi, RT a livello nazionale, è una regione che ha tutti i requisiti, tutti gli indicatori, per essere in una zona, potremmo definirla, gialla. Invece seguiamo quegli indirizzi, decreti draghi, che portano delle restrizioni importanti, importanti perché servono per prevenire poi quell'entusiasmo, quella volontà di voler mettere in atto momenti conviviali che, come noi sappiamo, sono i più terribili, quelli che purtroppo portano a un aumento del problema del contagio. Per cui queste norme saranno norme restrittive. Il messaggio che io voglio mandare è innanzitutto di un augurio, di un augurio di speranza ai nostri corregionali e seguire più attentamente quelle regole, perché come sono stati bravi, attenti nei mesi precedenti, adesso non dobbiamo vanificare il sacrificio messo in atto e quindi mantenere queste norme, evitando qualsiasi momento diversificato dalle norme, è fondamentale. Riapriremo le scuole subito dopo Pasqua e quindi piano piano torneremo a quella normalità tanto attesa.